in funzione ovviamente e anche dei collegamenti pure per i tratti lunghi e per il tratto di interruzione. Infine un'ultima fase, la più sofferta, che prevederà un'interruzione totale dall'asso fino a 20 miglia, che permetterà la chiusura dei lavori del ponte di Rio Borghetti, il raddoppio della linea e la conclusione dei lavori della galleria Capomele. In quella fase ovviamente dovremmo gestire la necessità di mobilità dei nostri clienti solo attraverso i bus e ovviamente oltre ai nostri bus rimarranno attivi per la tratta all'assio di Anomarina anche una convenzione con noi, con le imprese locali. 11 dicembre, primo treno su Anomarina. Sicuramente? Sì, i piani sono cambio orario, 11 dicembre, attivazione del raddoppio e anche ultimazione degli altri lavori che abbiamo citato. Ecco, è già allo studio un piano di trasporto per quanto riguarda le nuove stazioni? Le nuove stazioni parlando di Imperia, Castellecchio e Diano Marina. Quindi collegamento delle nuove stazioni ferroviarie, come ha detto poco fa l'assessore della Regione, questo tipo di studio è in mano appunto la Regione che si è fatta, credo, carico di coordinare un tavolo e credo sia importante fare riferimento a loro. Grazie a tutti. Grazie.